No, non era per niente facile, solo che siamo stati fortunati di andare in vantaggio subito, quindi era difficile per loro, però la partita secondo me era una delle più difficili. Poi il gol cambia la partita sempre. Come numeri sicuramente, sono molto contento per quello che ho fatto sul campo, però credo che la prestazione sia di tutti quanti, uno da solo non può risolvere la partita, ci vuole sempre a tutti e oggi sono stato fortunato io a fare il gol e a Assest. Senta, un'ottima prestazione è la sua, ovviamente sottolineata dagli Assest che dicevano i colleghi, ma forse è un po' troppo facile per non aver trovato posizione al centro campo, ma lei praticamente ha spagnoleggiato, all'Avevino non è facile? No, infatti come hai detto non è facile perché loro sono una squadra tosta e anche al centro campo sono giocatori importanti e non è stata una partita facile per noi, però ripeto, siamo molto contenti per quello che abbiamo fatto e continueremo così su questa strada. Senti, se iniziate a vincere anche con i casi, gli obiettivi per voi cambiano? Sì, l'obiettivo per noi è sempre stato la salvezza, ora siamo a 40 e cerchiamo di non perdere in casa, poi quello che facciamo fuori casa, cioè se facciamo fuori casa sempre c'è una cosa in più, però dobbiamo cercare di non perdere in casa e poi vediamo dove andiamo a finire. Che cos'è che non è brevante di capire l'Avevino prima di questa partita? E che cosa, alla luce della prestazione offerta, vi ha deluso di più della promozione di più? Di onestà, senza dichiarazioni di faccia. No, ma noi sapevamo che qua giù il campo è difficile, l'ambiente è tosta e c'è un gran tifo e sinceramente me lo aspettavo più difficile. C'è un senso, però poi ripeto abbiamo fatto gol subito e loro secondo me non vogliono perdere in casa, quindi dovevano cambiare qualcosina, dovevano magari far gol per tutti i costi e noi avevamo più spazio sui controviedi. Quello secondo me è stata la cosa che ha fatto la differenza oggi.